Ciao da Autoreparazioni NuovaCarti, siamo specializzati nel GPL da più di 30 anni e oggi abbiamo appena ultimato la trasformazione su questa macchina diesel Porsche Macan 3000 V6 184 kilowatt iscriviti al canale e scopri in questo video come l'abbiamo trasformata altra motorizzazione diesel trasformata nel nostro kit mix fuel con l'aiuto di AC Staga abbiamo installato l'impianto, l'unica cosa visibile è la nostra centralina con la presa di alimentazione gli iniettori sono stati ubicati sotto al carter di protezione e il polmone è praticamente invisibile anche su questa vettura Euro 6 con aggiunta di AdBlue abbiamo trasformato e abbiamo avuto il miglior rapporto potenza coppia per risparmiare il 30% sull'utilizzo quotidiano come tutte le nostre trasformazioni presa di ricarica nello sportello della benzina dove abbiamo anche lo sportellino per l'aggiunta dell'AdBlue su questa vettura per essere il meno invasivi possibile abbiamo installato il commutatore dentro al bracciolo come in tutti i nostri impianti ci permetterà di fare la commutazione da totalmente diesel a mista diesel GPL dove abbiamo le tacche di livello chiaramente grande soddisfazione per la lavorazione su questa Porsche Macan abbiamo comunque adeguato la mappatura abbiamo settato le temperature abbiamo creato una mappatura l'incremento è rilevante abbiamo più copie più potenza e questo ci aiuterà a risparmiare e avere anche delle emissioni inquinanti migliori purtroppo anche questa vettura è sprovvista dalle vano a ruota quindi abbiamo dovuto montare un serbatoio cilindrico di alta capacità e l'abbiamo coperto col suo piano di carico la trasformazione di questa vettura in mix fuel dopo il collaudo effettuato direttamente nella nostra sede permetterà al cliente di risparmiare ogni giorno circa 30% avendo un miglioramento di guida con più coppia e più potenza il giorno che gli Euro 6 saranno in blocco come sta succedendo da tempo per gli Euro 5 a Milano avendo la trasformazione in mix fuel potrai tranquillamente circolare risparmiando ogni giorno e senza dover cambiare la tua autovettura iscriviti al nostro canale e segui il nostro sito www.novacartauto.it dove potrai tranquillamente chiedere la fattibilità e il miglior preventivo per la tua vettura